Ciao ragazzi, ciao a tutti, un saluto da Calcio Toro, benvenuti in questo nuovo video. Oggi con un abbigliamento un po' particolare, questo accappatoio, non perché sono appena uscito dalla doccia, ma perché ci tenevo a utilizzarlo con il vecchio stemma del Torino Football Club che mi è appena stato regalato da un ex guardaline. Volevo provarlo subito in video e lo inauguro comunque, inaugurando anche, simultaneamente, il nuovo acquisto del Torino Football Club. Voivoda, di cui adesso parleremo meglio, ci tenevo a spendere due paroline su Bagnati, un ottimo DS per il momento si sta dimostrando tale, ha portato a casa una trattativa complicata dove c'erano più squadre sul calciatore, ha bruciato la concorrenza, un'offerta di 5 milioni, subito trovato l'accordo con la società, subito trovato l'accordo con il calciatore sulla base di un quinquennale. Dunque, un ottimo lavoro anche da parte di Torino Granata Official, che come sempre sotto questo punto di vista è molto affidabile con le notizie. Prossimamente a Torino per visita medica e firma, ma al più di voi è sconosciuto questo laterale destro classe 95 Kosovaro e quindi ho fatto questo video, mi sono informato un po' sulle sue caratteristiche e spero possa essere un buon riassuntino della sua carriera e di quello che vale calcisticamente. Dunque lui ovviamente verrà a fare il titolare sulla fascia destra, presumibilmente. Dove parte? Dove parte la sua carriera? La sua carriera inizia dalle giovanili dello Standard Lieghi, squadra dove gioca tuttora. Dunque, dopo una serie di prestiti viene ceduto a titolo definitivo nel 2016 al Muscron, spero si pronuncia così, si pronunci anzi così, scusate. Una squadra dove comunque ha continuità e gioca titolare per tre anni di fila, finché non riapproda nuovamente a titolo definitivo viene ricomprato dallo Standard Lieghi, scorsa stagione 2019-20 la prima da titolare inamovibile nella squadra belga. Tutto il campionato da titolare, qualche partita di Europa League senza mai sfigurare, anzi la valutazione media di 6.6 tra questo campionato e quello precedente che ha appena iniziato questo, ovviamente quello nuovo. Dunque, è un giocatore veramente bravissimo negli intercetti, è un giocatore bravissimo nei passaggi, tutte qualità che si addicono alla perfezione al 4-3-1-2 di Giampaolo, è un giocatore molto utile perché può giocare sia esterno di centrocampo che terzino destro, che difensore centrale all'occorrenza, pensate voi, è un nazionale, nazionale kosovaro, chiaramente, convocato e titolare sulla fascia destra della sua nazionale, ha segnato anche il gol decisivo contro la Repubblica Ceca per la vittoria dei kosovani nelle qualificazioni per l'europeo 2020, adesso 2021 a causa coronavirus, chiaramente, 22 presenze in nazionale con lo Standard Lieghi 25, sempre titolare, un buon minutaggio, è un giocatore abile nel dribbling, tenta spesso il dribbling a partita, è ottimo nei contrasti, ma è un giocatore molto pulito, non riceve molti cartellini. Su di lui garantiscono anche diversi tifosi dello Standard Lieghi che ho contattato personalmente su Instagram e mi hanno parlato molto bene delle qualità del calciatore. È un video abbastanza corto, un video abbastanza rapido dove volevo introdurvi semplicemente al nuovo acquisto del Torino. Non voglio fare un recap di calciomercato, voglio che il video finisca qua, è veramente breve, giusto per farvi un'idea. Detto ciò, ha 25 anni, ha ancora tutta la sua carriera davanti e nel pieno, vuole il salto di qualità, quindi ha scelto il Toro per questo salto di qualità. Toro che, ripeto, ha bruciato la concorrenza di squadre come Atalanta e Lazio che erano da tempo sul calciatore. E quindi niente ragazzi, i primi tre acquisti sono Riccardo Rodriguez a sinistra, Linetti in mezzala e Voivoda a destra. Adesso si inizierà pian piano con le cessioni, bisogna ancora comprare Playmaker, ovvero il trequartista, bisogna comprare i due giocatori in mediana, però ragazzi si prospetta una buona stagione. Almeno sotto il punto di vista della sofferenza non dovremmo soffrire troppo, ecco. Io spero di poter finire tra le prime dodici, spero possa essere un campionato tranquillo dove gettare le basi per il futuro, ma ci tengo comunque a sottolineare il buon operato finora preso dalla società. Non smetterò mai di dire Cairo out, chiaramente non smetterò mai di essere contro la società, però diamo a Cesare quel che è di Cesare. Insomma, tutto qua. Bisogna dire che per il ritiro Giampaolo comunque avrà una squadra, avrà dei giocatori su cui lavorare, il che è tanta roba considerando che spesso Cairo gli acquisti li fa all'ultimo giorno di mercato negli ultimi secondi, vedesi verdi lo scorso anno. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo calciatore, anche se non lo conoscete molto bene. Ho visto qualche video su YouTube, dai video su YouTube sembra buono, ma chiaramente non si può giudicare da quelli, altrimenti il dodo sarebbe un fenomeno, citazione per chi l'ha riconosciuta, scriva qua sotto. E niente, spero di avervi introdotto con questo breve video al calciatore, spero possa piacervi. Io ho dei dubbi, però sulle qualità non si discute, quindi speriamo possa rendere bene anche in Italia. Sempre Forza Toro, ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi!